Fabbrica della Ruota Fondazione Teledinamico, che consentiva la trasformazione dell'energia idraulica in energia meccanica e il suo trasporto a distanza. Rimasto operativo fino ai primi anni 60 del 900 e poi segnato dall'alluvione del 68, l'edificio è stato recuperato dal Dogby Centro Studi Bialesi in un progetto di rifunzionalizzazione che ha trasformato l'antico lanificio in un centro culturale. Da 30 anni a questa parte la fabbrica ospita macchinario tessile d'epoca, mostre temporanee, per lo più riguardante il patrimonio industriale bialese, ma anche concerti, convegni, manifestazioni enogastronomiche. Nella fabbrica ha sede anche il Centro di Documentazione dell'Industria Tessile, che consta di una biblioteca specialistica e di più di 70 fondi archivistici, riordinati, catalogati e messi a disposizione degli studiosi, sia in cartaceo che su piattaforma digitale. Grazie a tutti.